Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitata alle nozze anche Gesù con i Suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. E Gesù le rispose, donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro, riempite d'acqua le acque. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo, ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse. Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. Parola del Signore. Festa di nozze. Già dalla prima lettura noi abbiamo accolto questo sposalizio tra Dio e Sion. E la gioia è stradipante, perché un matrimonio che ovviamente viene vissuto nel segno dell'amore non può che essere sacramento di gioia. E naturalmente quando si è uniti sacramentalmente nell'amore e dall'amore, non si è mai soli. Anche se ci fossero delle incomprensioni, si troverebbe sempre la soluzione che richiama la gioia. E allora è bello che la vita possa essere il canto al Signore. Canto di gioia, canto di benedizione, canto di testimonianza. quel canto che ti porta a sentire la presenza di questo Dio misericordioso, straordinario, nella sua premura, perché l'uomo potesse sempre vivere la pienezza della vita, nella serenità e quindi gode nel vedere che finalmente la sua presenza è regno di giustizia e di pace. Il Signore regna. Quando regna il Signore, allora tutto concorre al bene comune. E dice bene San Paolo, scrivendo ai Corinzi, ognuno di noi ha un carisma personale. Ma se noi entriamo nella gioia del Signore, attraverso l'ascolto della sua parola, noi esprimiamo la diversità di questi carismi, ma nell'unità dell'amore. Quindi non possiamo noi non essere un cor solo e un'anima sola. E non possiamo noi non vivere protesi sempre al bene comune. non un bene egoistico, ma un bene universale. D'altra parte, come si fa ad annunciare a tutti le meraviglie del Signore se nel nostro cuore non c'è la gioia del Signore, la gioia della sua presenza. Vedete, cari fratelli e sorelle, la parabola che ci viene raccontata da Giovanni e che apre il sipario sui segni significativi compiuti da Gesù perché l'uomo potesse sempre trovare la giusta via, ci viene a sottolineare chi è Dio e chi è l'uomo. Una festa di nozze. Quanta frenesia di felicità, di emozioni, di sentimenti, di fratellanza. Quanta voglia di testimoniare questo spello stare insieme. Maria però, sempre attenta ai bisogni dell'umanità, si accorge che il vino è venuto a mancare. Lo dice Gesù. Gesù risponde con una frase abbastanza forte. Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sì, perché questo frammento evangelico ci toglietta nella Settimana Santa. Le sei giare stanno ad indicare i sei giorni. il banchetto di nozze sta ad indicare la Pasqua. Maria, quasi non curante di quello che risponde il figlio, dice a servi qualsiasi cosa vi dica, fatela. Perché questa frase qualsiasi cosa? Perché sicuramente potrebbe accadere che noi non riusciamo a cogliere il senso, il motivo, che so io la portata della parola del Signore. Però Maria indica la via giusta. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Cioè, obbedite anche se non capite tutto, anche se non riuscite a condividere pienamente, a cogliere totalmente il significato e il fine. Obbedite. viene qui evidenziato che le sei anfore servivano per la purificazione, riempitele di acqua. i serbi non si sono probabilmente posto il motivo di questa fatica richiesta a loro. Anche perché la purificazione era già passata in quanto stavano già mangiando. Ci si purifica prima, ci sono le abulsioni e poi subito dopo dice attingete e portatene al capotavolo. Ecco il miracolo, l'acqua dell'umanità che diventa segno sacramentale di divinità, energia, gioia, la fragilità che viene trasformata da Cristo in bellezza di felicità in virtù esaltante di santità. Tutti mettono in tavolo il vino buono all'inizio e quando si è un po' brilli il vino meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora perché non sapeva da dove venire. E allora, cari fratelli e sorelle, come faccio io ad annunciare le meraviglie del Signore se io non bevo il vino delle meraviglie del Signore, ma magari i sonseggi di fiele dell'odio e del rancore. Cosa racconto io? Quello che ho, quello che vivo, se ho la gioia del Signore, se io incarno la parola di Dio nella mia vita, non posso che cantare e testimoniare la bontà misericordiosa del Signore. Non posso che edificare gli altri con le belle opere che il Signore ha operato e continua ad operare. Non posso che mettere a disposizione il mio carisma per il bene comune. Questo non accade quando dentro di noi non c'è il Signore, anche se ci giudiamo di averlo o anche se pensiamo di avere la gioia del Signore. Perché soltanto una cosa ci fa capire se siamo o non siamo del Signore. La testimonianza della nostra vita. Se siamo pane di comunione, pane di misericordia, pane di amore, pane di gioia, veniamo di Gesù. Tutto il resto viene dal mondo di Satra. E allora, fratelli e sorelli, cerchiamo di cogliere questa ulteriore sollecitazione della parola di Dio per metterci in discussione e perché anche noi costituiamo quel popolo che sulla croce Gesù accoglie e lo pone accanto a Maria indicandola Maria come madre e il popolo come figlio. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.